Ciao a tutti vediamo come possiamo acquistare giochi dell'Xbox a basso prezzo in formato digitale sotto in descrizione trovate già il link che punta a due o tre migliori store che sono online in questo caso proviamo ad acquistare FIFA 23, vediamo un po' come vedete c'è già la versione di Xbox One o Xbox Series X proviamo ad aprire questa e quando acquistate dovete fare attenzione a due cose oltre che al prezzo dovete fare attenzione alla piattaforma in questo caso Xbox Live perfetto, quindi non rischiate di comprare Playstation o PC seconda cosa dovete fare attenzione alla Key che deve essere o Global, che è globale o Europe, che è Europa oppure Italy direi che ci arrivate verificate sempre qua sotto vedete Europa può essere attivato in Italy perfetto e poi qua c'è la guida all'attivazione che vi verrà comunque ricordata poi una volta che avrete acquistato il gioco su Instant Gaming non cambia niente perché se io cerco FIFA 23 eccolo qua per Xbox vedete qua c'è Xbox apriamo qua sotto ci sono le varie piattaforme quindi nel caso potete cambiare da qua e dovete prestare attenzione alla chiave in questo caso non vi dice niente quindi vuol dire che è globale globale va bene se torniamo indietro e cerchiamo altri giochi di prova ad esempio vedete qua Formula 1 Manager 22 Europe che cosa vuol dire questo Europe? Europe vuol dire che questo gioco è riscattabile solo dentro i paesi europei globale se c'è scritto globale o non c'è niente vuol dire che è riscattabile ovunque nel mondo Italy chiaramente Italia se ripeto c'è Turchia, Stati Uniti, America Latina, Asia eccetera non acquistatelo perché voi non potete riscattarlo quindi mi raccomando fate attenzione sotto in descrizione trovate i link e niente se avete bisogno lasciate un commento ciao ciao